La Clinica Dentale Santa Teresa si sta sempre più affermando come un centro di riferimento per quanto riguarda le cure dentali sia a livello locale che internazionale. Per comprendere le ragioni di questo successo, che risiedono in primo luogo nella professionalità del team e nell'applicazione di tecnologia all'avanguardia, abbiamo parlato con il coordinatore clinico del gruppo, il dottor Fabio Fusconi. La Clinica Dentale Santa Teresa nasce a Ravenna nel 2014 e si è sviluppata su cinque sedi in Emilia Romagna, da Paenza, Cesena, Rimini e anche Bologna recentemente. La caratteristica di questa clinica e la forza di questa clinica sta nello staff, dei dipendenti, dei collaboratori e nella tecnologia che siamo riusciti a implementare in questi anni, che ci consentono di fornire servizi di chirurgia estremamente mirati e personalizzati e soprattutto pochissimo invasivi, grazie al digitale, quindi alla chirurgia cosiddetta computer guidata. Questa tecnologia ci consente di ridurre i tempi e l'invasività, come dicevo, degli interventi, quindi anche interventi importanti che vengono eseguiti con estrema snellezza e estrema comfort per il paziente. Questo ha creato un rapporto di fiducia fra lo staff e i pazienti. Per alcuni pazienti con problemi motori o che non hanno appoggio di familiari, siamo riusciti a confezionare un servizio a domicilio, quindi il paziente è stato portato dal nostro staff in clinica, ha eseguito un intervento e dopo un paio d'ore è stato riaccompagnato a casa, sempre dal nostro staff. Ma qui alla Clinica Dentale Santa Teresa arrivano non solo pazienti provenienti dalla zona di Ravenna o dalla regione Emilia Romagna, ma anche da tutta Italia? Sì, lo sviluppo del gruppo in ambito regionale, prima a Romagna, adesso anche a Bologna, ha una logica. Sono cliniche abbastanza vicine, si fa sinergia fra le varie cliniche e riceviamo richieste da parte di pazienti non solo di Ravenna e della Romagna, ma anche da tutta Italia. Questo grazie alla diffusione delle informazioni tramite i social, il paziente ormai è molto informato e quindi va a ricercarsi quello che secondo lui è il servizio più adatto alla sua problematica e siamo in grado quindi di fornire servizi anche a chi viene da lontano o anche il servizio di pernotto, quindi possiamo organizzare interventi anche di questo tipo. La molla fondamentale è la paura del dentista, questo purtroppo è una paura atavica, io stesso quando mi devo sedere ho i miei timori, per cui la ricerca di tecnologie mini invasive, quelle che noi offriamo, è proprio spinta dal fatto che il paziente cerca trattamenti sempre meno invasivi e che abbiano questa caratteristica di dare il minor disagio post-operatorio possibile. Il digitale ci porta proprio a questo, a fornire servizi sempre più veloci e sempre meno invasivi e quindi riceviamo richieste anche da lontano. I pazienti informati su queste cose vanno a cercarsi servizi di questo tipo. Noi abbiamo degli scambi culturali, chiamiamoli o comunque di informazioni con colleghi da tutto il mondo, i social hanno questa caratteristica di accorciare le distanze per cui ci scambiamo informazioni e riceviamo molte richieste di informazioni da colleghi, l'altro giorno per dire dall'Australia, un collega mi ha chiamato via messenger per chiedendomi informazioni sulle nostre tecnologie.